ragazzi sirigu e del napoli ora e gianviglia stewart che sta facendo svolgendo le visite mediche in questo momento il portiere svincolato 35 anni appunto si appresta a diventare un secondo portiere del napoli svincolato preso a 700 mila euro compresi bonus il napoli stia che apparra appunto sul secondo portiere è un po la telenovela se vogliamo no quella del napoli quei portieri perché veramente in questi giorni sta succedendo di tutto da un portiere che sembrava certo la cessione a un portiere che comunque ancora hanno sul gruppone da che poi che sembrava quasi fatto a che comunque si sta inserendo anche navas e su navas ragazzi io ne parlai tanto tempo fa e infatti eventualmente se fosse ufficiale la cosa di navas io per sicurezza vi invito ad andare a vedere il mio video che ho fatto su navas al massimo lascio qui nelle schede poi se non è non arriva navas ma arriva che fa allora su che poi faccio un contenuto a parte però qua sopra nelle schede vi lascerò il contenuto su navas perché è un po la telenovela perché comunque ormai manca poco al campionato no e da quello che trappelano nei giornali anche quelli legati al mondo napoli no meret ragazzi non è non è nel progetto napoli cioè meret lo danno tutti per come posso dire per esubero per portiere che deve partire per lo meno in prestito per avere sicurezza ed esperienza arriva stavatore sidigo che come secondo ci può stare transfer market lo valuta 1,5 milioni di euro ormai il cartino di sidigo va a scendere perché l'età avanza però comunque un portiere che ti porta sempre esperienza no che comunque ti crea quello spogliatoio sotto le sidigo nella sua carriera ha vinto anche comunque recentemente un europeo con l'italia perché comunque se non sbaglio da lui secondo dopo donna ruma o terzo comunque fate un po voi e comunque ti porta quell'esperienza in più che può anche unire lo spogliatoio può far bene alla squadra è ovvio che se tu arrivi a cinque giorni da inizio del campionato con sidigo secondo è un meret primo che non dovrebbe essere primo cioè vengono dei problemi ti vengono dei problemi ora meret sembrava fatta per lo spezia perché poi a un certo punto l'anno un giorno di notte mi ricordo che tutte le applicazioni calcistiche sul calcio lanciavano la bomba che meret era dello spezia era praticamente già fatta poi provvedere comunque alla fine è approdato alla lazio ma alla fine lo spezia ha chiuso per daugoski quindi meret è ancora lì è ancora lì e io voglio capire un po' questo napoli cosa ha intenzione di fare attenzione non è solamente il napoli detto col mercato perché anche noi cinque giorni scegliamo cioè noi scendiamo lunedì in campo però dovremmo ancora chiudere kostic ci manca ancora un terzino sinistro per me ci manca ancora un difensore centrale appunto ci manca dalla sinistra perché kostic ancora non è arrivato siamo in ritardo anche noi sul mercato eh ci mancherebbe tra l'altro si è fatto a mano anche scesni continuano a spaccarci a noi giusto per parlare di portieri si è fatto a male pure scesni e vabbè lasciamo stare giocherà per in però ripeto devono ancora arrivare il portiere titolare il portiere titolare che comunque proteggerà la porta appunto dei pali del napoli è meglio Kepa o Navas? Ragazzi secondo me per età è ovvio che serve meglio Kepa perché per età il ragazzo può comunque rilanciarsi nel Napoli no? perché nel Chelsea comunque ha avuto un crollo abbastanza netto ed è stato anche il portiere più pagato se non sbaglio Kepa 80 milioni da Tico Bilbao al Chelsea è una cosa clamorosa però per esperienza per quello che ha vinto ovvero Champions League eccetera eccetera io fossi il Napoli se il PSG mi paga ben parte dello stipendio punterei su Kelo Navas perché Kelo Navas ti porta quell'esperienza in più anche lui è un portiere di tutto rispetto ed è un portiere che comunque sa parare ve lo posso garantire e quindi sono curioso di vedere in queste ore perché si parla di queste ore tra l'altro per il Napoli in queste ore c'è molto calda la pista da Spadori sembra che ci sia ancora un po' di distanza ma Napoli sta cercando di chiudere anche perché da quello che si legge ragazzi dovrebbe partire anche Fabian Ruiz che ha l'accordo col PSG cioè c'è il sì del giocatore per andare al PSG quindi se ti parte anche Fabian automaticamente ti deve entrare per forza di cose da Spadori perché Napoli ha perso già tanto quest'anno a livello di comunque giocatori importanti nella Rosa e quindi ragazzi alla fine questo video qua è diventato un po' un resoconto diciamo come posso dire un riassunto ecco di quello che sta passando Napoli in questo momento nel mercato di quello che ha fatto quello che non ha fatto quello che deve ancora fare perché su Sirigu ripeto il video è su Sirigu perché Sirigu è del Napoli però ho poco da dire perché comunque farà un secondo farà il secondo Sirigu quindi più che dirvi che è un buon portiere che porta esperienza che come secondo ci può stare ho poco altro da dirvi su Sirigu al Napoli manca il primo e per adesso il primo seguirebbe ancora Meret perché Meret è ancora lì però Meret da quello che dicono non è il primo Meret deve andare via non so dove lo manderanno ma Meret odia in partenza lo danno sempre per partente quindi non lo so e niente sono curioso di dire ripeto il Napoli nelle prossime ore come si comporta quindi vediamo un attimo ragazzi vediamo un attimo questa situazione comunque ripeto Sirigu è un nuovo giocatore del Napoli oggi visite mediche 700.000 euro compresi i bonus visto che era svincolato ricordiamoci al sabato dei siguri era svincolato quindi ci sta ci sta lo davano anche molto vicino in Turchia Gata Sarai dicevano avevo letto anche qualche articolo invece alla fine ha scelto Napoli perché Napoli ha fatto l'affondo decisivo e quindi si accaparrono ripeto un buon portiere per me un buon portiere per il secondo secondo assolutamente sì per l'esperienza per la leadership per queste cose qua niente ragazzi l'idea che il video può finire quindi se vi è piaciuto lasciate un bel like mi raccomando commentate nei commenti fatemi sapete un po' voi cosa ne pensate di questo video di anche Salvatore Sirigu cosa ne pensate a voi come secondo vi piace oppure no e soprattutto ragazzi anche se vi piacere iscrivetevi al canale che è importantissimo non costa nulla e tanto basta che fate clic su iscriviti se siete iscritti senza costi non mi spettacolo se lo fatevi un ringrazio di cuore condividete i video con i vostri mi ci fate iscrivere anche loro e attivate le notifiche così non perdete i prossimi video passate che sotto i link di istituzionale a parte del suo channel e niente ragazzi qui dovi anche nel tutto bella grazie a tutti